Per chi è a caccia di artisti da consacrare alla gloria o per chi semplicemente brama un'opera originale da appendere in salotto, Mia Photo Fair è il paradiso milanese dedicato alla fotografia, da ammirare, sognare, acquistare. 50 espositori tra progetti speciali, editoria e progetti a quattro mani e 85 gallerie per un terzo provenienti dall'estero. Come ogni anno, la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte va in scena nel cuore della Milano più moderna, un accesso privilegiato al mercato dell'arte fotografica per gli appassionati e i collezionisti. Lo scopo? Approfondire quello che è il mezzo di interpretazione della realtà contemporanea per eccellenza. La fiera nasce appunto nel 2011 e abbiamo sentito l'esigenza di offrire qualcosa legato al mondo della fotografia che non era ancora coperto. Abbiamo colmato un vuoto, abbiamo sicuramente posto tantissima attenzione al lato educativo, di comprendere la fotografia come mezzo d'arte contemporanea. Con tutte le regole del gioco, che siano le edizioni, che siano i vintage, che siano i print later, capire quante opere sono in circolazione è una delle regole principali. A introdurre e lanciare l'edizione di quest'anno le immagini eteree dell'artista norvegese Rune Gunerjusen, che esortano l'uomo a ristabilire un equilibrio con la natura. Sono dei manufatti umani che vengono inseriti nell'ambiente naturale, creando queste installazioni che poi lui fotografa. Il nostro è un omaggio che abbiamo fatto anche, sicuramente è un grande tema che tocca tutti noi, quello dell'ambiente, ma anche un omaggio a Triennale, che quest'anno apre la Triennale e l'esposizione internazionale, che si intitola Broken Nature. Una piattaforma culturale sempre attenta ad accogliere le ultime istanze provenienti dall'universo dell'immagine e che ogni anno estende i propri confini oltre l'obiettivo fotografico. Abbiamo un focus dedicato alla Corea del Sud, un'esposizione con autori giovani e coreani che vogliono presentarsi al mercato europeo e milanese. L'altro focus che quest'anno abbiamo è con una fiera californiana che si chiama Photo Independent Los Angeles. Abbiamo anche un bellissimo omaggio a Leonardo da Vinci, una mostra con dei fogli dal Codice Atlantico. Inoltre abbiamo un nostro importante premio, il premio BNL, che praticamente permette l'inserimento di un'opera acquistata in fiera ad entrare e entra a far parte della collezione BNL che conta più di 5.000 pezzi. Ad aggiudicarsi il premio quest'anno è il cinese Liu Bolin, noto per i suoi autoritratti fotografici. Sono particolarmente orgoglioso di questo premio perché oltre a gratificare Liu Bolin, gratifica anche noi perché noi abbiamo prodotto il lavoro, per cui abbiamo chiesto i permessi. Siamo arrivati dentro la chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma e siamo riusciti a fare questo scatto, che non era semplice. Il Bolin si mimetizza nello sfondo che noi cerchiamo, sempre con un contenuto, per cui siccome in Cina distruggono tutto il loro passato, lui vuole mimetizzarsi nei monumenti in Italia per far capire che noi la storia la valorizziamo.